Buongiorno a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale dei Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con ResinTime, il TG dei motori ResinTime accomodato, come potete vedere Allora, se vi state domandando cos'è questa cosa qui, che cosa sto facendo Allora, il microfono e la penna scaccia pensieri assieme Due cose in uno, prima o poi lo brevetterò Allora, perché sto facendo questa cosa qui? Di altissima tecnologia Perché mi sono accorto ieri che tenendo il microfono qui A volte il suono viene un po' metallico Magari non è quello, però intanto ho detto provo E allora l'ho messo qua E poi nel frattempo ho la penna che sapete mi aiuta a fare i video Perché mi serve come antistress E allora due cose in una, appunto Dunque, ieri ci siamo lasciati con la news di Adrian Newey Che secondo autosprint, ripeto Di solito se si muove autosprint Questo è ben informato La Bibbia del motosport Quella con cui siamo cresciuti un po' tutti Soprattutto quando c'era il cartaceo Ecco, ci insegna che se loro dicono una cosa Probabilmente poi è quella Io mi fido di loro Però, però, però Aspettiamo sempre, come si suol dire La pista e quindi la comunicazione ufficiale In ogni caso, questo è il video di ieri La copertina del video di ieri Se non l'avete vista andatela a guardare Ovviamente oggi che cosa succede? Arriva, anzi in realtà è arrivata ieri La smentita ufficiale da parte di Aston Martin E che ovviamente dice Sì, noi attraiamo Siamo capaci di attrarre un sacco di tecnici Di punta, di top manager Tutto il meglio del meglio Però non abbiamo nessun annuncio da fare E io aggiungerei un probabile al momento Quindi vedremo un po', per il momento è ovvio Che abbiano smentito Però abbiamo visto in questo cammino di due anni Come in Formula 1 Perché da fine 2021 Che andiamo a braccetto con Racing Time Quindi 2022, 2023 e 2024 Sono quasi tre anni Due anni e mezzo abbondanti Come la parola dei piloti e dei team Eccetera eccetera Valga poco, pochissimo In determinate occasioni Quindi staremo a vedere Vedremo lo svilupparsi degli eventi Però questa cosa Diciamo che Anche quelle che sono le fonti che ho io Che in questo periodo comunque Sono in villeggiatura Parleremo anche di questo E anche i miei amici immaginari Dicono che La cosa praticamente Dovebbe essere sicura E soprattutto Dicono che Ferrari ha deciso Di abbandonare l'idea Adrian Newway Però ripeto ragazzi Finché Non c'è la firma definitiva E la comunicazione ufficiale Noi stiamo alla finestra Ad aspettare E forse Potremmo dire anche Sperare Anche se in realtà Oggi ragazzi Se sentite un rumore Di sottofondo Di un qualcosa Che si muove In un cartone Poi alla fine vi spiego Che cos'è Non vi preoccupate Tutto regolare Dicevamo Anche se ho letto Dei commenti E una dichiarazione Di Zach Brown Che Come dire In realtà Condivido Cioè a dire Se ha scelto di andare là Bene Vedremo se saremo Capaci a batterlo Anche se non ha firmato Per noi Questo l'han detto I tifosi Sul canale Zach Brown Ha detto Noi vogliamo vincere Senza di lui Anche perché Ripeto Per come si è strutturata Bene La McLaren E per il tipo Di vettura Che stanno schierando Adesso Sarebbe stato Il colmo Dei colmi Andare A stravolgere Tutto Non avrebbe avuto senso Aston Martin Ha tutto il diritto Di farlo Ferrari Ha tutto il diritto Di dire Sì Oppure no Avrà fatto Le proprie valutazioni Ad un Personaggio Che gli ha chiesto Praticamente Potere Assoluto Forse assolutissimo Perché io sono convinto Che in questo Suo Quarto Contratto Con un team Perché Ha corso con Williams McLaren Red Bull Corso Ha progettato Per Williams McLaren Red Bull De formazione Professionale Scusatemi Ebbene Lui secondo me Sto giro qua C'ha dei poteri Che non ha mai avuto E calcolate Che ci starà In Formula 1 Per un po' di anni Perché Leggo quella Che ha 80 anni Non è vero Non è neanche Settantenne Quindi Ha Del tempo Da trascorrere Ancora In Formula 1 Ci sono però Due cose Che non mi tornano Uno Di tutto questo discorso Alonso Allora Adrian Newway Se dovesse Confermare Questa firma Per Aston Martin Quindi Questo contratto Con Aston Martin Sarà operativo Dal 2026 Ok A me Non sembra Di vedere Un Fernando Alonso Così Raggiante Perché io Se fossi stato Un pilota Che Avrebbe Corso In futuro Con le vetture Di Adrian Newway Sarei stato Veramente Contentissimo Anche se In questo momento Le performance Della vettura Lasciano molto Desiderate Però è anche vero Che Alonso C'è la sua età E magari Non ha Nessuna intenzione Lui o il team Di confermarlo Oltre al 2025 Vedremo Vedremo O per meglio dire Oltre il 2026 Perché Non ricordo In questo momento La posizione Contrattuale Di Alonso Se scade Nel 2025 Oppure Nel 2026 Ma al di là Di questa cosa qua Ragazzi C'è un'altra cosa Oltre ad Alonso Che non mi torna Ed è La figura Di Dan Fallov Chi è Dan Fallov Dan Fallov È l'attuale Direttore tecnico Della Aston Martin E come vedete Qui Ha una Divisa Red Bull Perché Dan Fallov Dovete sapere Che era Il braccio Destro Di Eddie A New Way In Red Bull Prima che accettasse L'offerta In casa Aston Martin E questa cosa qui Non è andata Molto a genio A New Way I due Non si parlano Dal 2021 E abbiamo visto Come All'inizio Aston Martin Praticamente Volava Poi Non sono più Stati capaci Di introdurre Degli aggiornamenti Tali Da far Progredire La vettura Anzi A tutti Gli aggiornamenti Abbiamo visto Un passo Un passo Indietro Quindi De merito Di Fallov De merito Della struttura Che orbita Attorno a Fallov Perché Dobbiamo considerare Che un solo Elemento Non può Cambiare Radicalmente I risultati E la continuità Di risultati Di risultati Di un team Quindi Io credo Che le Colpe Vadano Ripartite In ogni caso Mi domando Che fine Farà Fallov Perché Io non Credo Che Adrian New Way Lo voglia Al suo Fianco Visto Che Ha dettato Condizioni Pure Sul colore Della carta Da parati Quindi Io credo Che questo È un personaggio Che sarà Destinato Ad andare In un altro Team Vedremo Vedremo Poi per quel Che riguarda Il futuro Team Principal Della Ferrari Tanti Parlano Di Elliot Ricordate Noi Avevamo fatto Un video Circa tre settimane Fa Su Elliot Però Voglio Aspettare Prima di Riaprire Quest'argomento La fine Delle Chiusure Dei vari Team Quindi La fine Della chiusura Forzata Di 14 Giorni E ora Vi parlerò Proprio Di questo Perché Noi sappiamo Che appunto Da sabato Scorso Praticamente Perché poi Sono di più Di 14 Giorni Tutti i team Di formula 1 Sono Chiusi Cioè Hanno i cancelli Chiusi Ma è proprio Così Ragazzi Cioè Veramente In struttura Non entra più Nessuno Neanche un operaio Neanche una persona No Assolutamente Non è così Perché In questo periodo Una delle Prerogative A livello Lavorativo È quello Di fare Manutenzione Alle macchine Manutenzione Ai macchinari Quindi Che cos'è Che chiude Realmente Se Se la manutenzione I macchinari È Come dire Operativa Se la manutenzione Alla struttura È operativa Se gli uffici Finanziari Sono operativi Cos'è Che chiude Perché Se andate in Ferrari O in McLaren O in Red Bull O oggi Vi accorgerete Che aprite Prima bussate Poi forse Vi aprono E troverete Gente Quindi Non è che Non ci sia Nessuno Allora Cos'è Che chiude In un team Cioè Chi non lavora In un team Di Formula 1 Durante la pausa Forzata Allora Si fermano Ragazzi Tutti Quei reparti Che Lavorano Direttamente Con la performance E lo sviluppo Della vettura Praticamente Quelle aree Che sono Correlate Alla performance O allo sviluppo Delle vetture Di Formula 1 Ecco Tutte queste Si devono Fermare Quindi Non c'è nulla Che Implichi test Progettazione Produzione Di parti Nuove O Qualunque Attività Che Coinvolga L'attività Della gara Questo qui È quello Che viene Completamente Fermato In Formula 1 Durante questa Pausa estiva Però ci sono Dei reparti Che rimangono aperti Ad esempio Chi deve Produrre Delle parti Già omologate Può farlo In questo periodo Chi deve Fare manutenzione Viene fatto Soprattutto questo Può farlo In questo periodo Chi deve Portare Avanti Delle trattative Commerciali O tecniche Può farlo Anche In questo periodo Quindi Ancora una volta Di più Vi dico Che Tutto ciò Che sarà Il prossimo Organigramma Ferrari Verrà definito Per Benino Proprio in questo periodo Bene Andiamo avanti Vi voglio far vedere Un pilota Che non si vede In Formula 1 Da un po' Perché La sua carriera Potrebbe avere Un risvolto Particolare Lui è Nick DeVries Nome Fantastico Un ottimo Talento Io me lo ricordo Ve ne ho parlato Più e più volte Quando correvo Nel campionato italiano Open Che era una sorta Di mondiale In realtà C'era anche lui Nick DeVries Che correva Con Prima i 60 E poi la junior E praticamente Arrivava Col suo computerino Apriva E si studiava Le telemetrie Poggiando Il pc portatile Sopra la pancia Del kart Era un Maniaco Del particolare Della perfezione E cercava Di studiare Un po' Tutto Quella che era La performance Nel giro Grazie all'aiuto Delle telemetrie Ed era Molto Molto Piccolo Di statura Ebbene Lui Adesso Sta facendo Una cosa Curiosa Perché Disputerà La fine Del campionato In superformula Giapponese Questa qui Può essere vista O come Un tentativo Di dare Una svolta Alla propria Carriera Magari Andando A bussare In formula Indie Proprio per questo Motivo Sale In una formula In una Monoposto In realtà Lui è sceso Da poco Dalla formula E Ricordiamolo Che sempre Una monoposto E però Con un motore Totalmente Elettrico Oppure Visto che In formula In superformula Giapponese E coinvolta Direttamente La toyota E lui E un pilota Toyota Allora Magari Potrebbe essere Un premio Per concludere Al meglio La stagione Correndo In una monoposto Perché la monoposto È l'essenza Delle gare Comunque In ogni caso Correrà Le ultime due gare Di superformula Giapponese Poi Una buona notizia Per Fabio Di Gian Antonio Che firma Un contratto Per la durata Di due anni Scusate Per la notifica Del telefonino Con il team Morbidelli Morbidelli Franco Morbidelli Scusate Gianni È il pilota Che correva In formula 1 Andiamo avanti Perché oggi Donato DF1 Scusate DF1 History Mi ha inviato Questa foto Mi ha detto Ricordi Ungheria 1988 Due vetture Che hanno dominato Tutta la stagione Eccetto Una gara Monza Due vetture Che si sono Come dire Battute Due piloti Che hanno duellato Per tutta la stagione Questo è il Gran Premio Di Ungheria E Prost Partiva settimo Rimontato Fino al secondo posto È arrivato A braccare Senna E lo stava persino Superando Approfittando Di un doppiato Poi arriva lungo Una curva Senna lo ripassa E va a vincere Il Gran Premio Sapete perché Vi stiamo dicendo Questa cosa qui Assieme a Donato Perché Abbiamo fatto Una similitudine Con Ungheria Di quest'anno Norris Piastri Qui i piloti Se le suonavano Veramente Non c'erano Tutti questi Team order Che abbiamo Adesso Ed era Uno spettacolo Una goduria Vederli correre E sapete perché Andava bene Perché era per tutti Così Non era per un team In un modo E per un team In un altro modo Tutti i team Avevano due piloti Che correvano In maniera Più o meno Libera Sì rispettando Alcune regole interne Però Chi era più forte Finiva davanti Andiamo ai commenti Ci ritorniamo Bene Sono contento Allora Commenti in pole position Nel video di ieri Marco Nesti Lorenzo Marino Marinozzi Scusami Ipermonkey Stefano Conto Francesco Zito E Antonio Iacovelli I commenti Più di tendenza Sono quelli di Tecchiua Andrea Simone Micinilli Salvatore Fichera Poi Roberto Rubini Sergio Stefani O Stefani Poi Questi rumori Di sottofondo Che sentite Di qualcosa Che si muove Dentro un cartone Vi voglio far vedere E questo micetto Qui Che In realtà Ne ho soccorsi tre Due Sono Adesso vivono Senza nessun tipo Di problema Lui ancora Si deve sbloccare Occhi chiusi Ha preso acqua Muco Negli occhi Nel naso Gli sto dando L'antibiotico E sto cercando Di curarlo Spero di riuscirci Vi terrò informato Su questa cosa qua E a proposito Di questa cosa Nel video di domani Prendendo spunto Da ciò che ci fa vedere La formula 1 In questo periodo Bravi E con l'aiuto di Donato Vi farò vedere Una serie di fotografie E lanceremo Un messaggio Ragazzi Per questo video è tutto Bacio grande Spero vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un like Un commento E Iscrivetevi Anche Al nostro secondo canale Selezioni TV2 Ciao a tutti Ci vediamo Nel video Di domani Grazie a tutti